Allora, questa nuova variante, che è una variante denominata anche californiana, perché è stata isolata per la prima volta negli Stati Uniti in California ed è stata poi sequenziata nello stato di Washington a Seattle, è una variante che ha delle mutazioni importanti a livello della porzione di genoma virale che è implicato nella produzione dello spike, che ora tutti quanti sappiamo che cos'è. E quindi sembra che riesca a deludere meglio delle altre varianti il nostro sistema di immunosorveglianza sia nei soggetti che hanno manifestato sintomi di malattia, naturalmente, sia nei soggetti che si sono vaccinati. Però, allora, c'è un unico studio fatto appunto su questi soggetti che avevano la variante Epsilon, però parliamo di qualche decina di casi, quindi, diciamo, trarre delle conclusioni adesso è prematuro. Sicuramente è una variante che preoccupa per questo tipo di motivo, cioè il fatto che sembra che riesca a deludere il nostro sistema di immunosorveglianza, però è pur vero che finora sono stati descritti pochi casi. Parliamo di qualche centennio degli Stati Uniti, in Europa forse non si arriva a 100 casi, in Italia sono pochissimi i casi, quindi la Danimarca, se ricordo bene, 37-47 casi che è quella più coinvolta. Però probabilmente è una variante che magari non ha questa grossa capacità infettante, come invece la Alpha, cioè l'ex inglese, o la Delta, cioè la ex indiana. Quindi cosa dire? Preoccupazione sì, perché siamo ormai in guerra nei confronti di questa virosi, di questo virus e bisogna comunque essere sempre prudenti. Però probabilmente forse non è molto infettante, quindi non riuscirà a penetrare molto negli Stati, anche se ormai sono 43 o 44 Stati dove è stata individuata, però torno a ripetere, sempre con numeri molto molto bassi e quindi probabilmente non ha questa grossa capacità infettante. Certo, ciò testimonia il fatto che la globalizzazione, se vuole essere intesa anche per fenomeni negativi per la specie umana, ovviamente è la globalizzazione che determina questo passaggio anche piuttosto veloce di tutti questi virus, di tutte queste varianti, però ormai siamo tutti quanti uomini e donne del terzo millennio e così bisogna capire che la natura va avanti con i suoi giochi, che sono giochi di natura biologica, con i salti di specie e quant'altro che sempre ci sono stati. Adesso ovviamente c'è un salto di specie, con la globalizzazione si fa subito a fare il giro del mondo. Siamo 7,5 miliardi di persone e quindi è naturale, siamo tanti in realtà, è naturale che il rischio, come in questo caso, di un salto di specie, di un virus abbastanza infettante e anche relativamente patogeno possa far paura e quindi la paura non è solo limitata a questa variante o a SARS-CoV-2, bisogna stare attenti anche per quello che succederà nei prossimi anni, perché purtroppo ci saranno ancora altri salti di specie.